Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Gregory Zuru 28LT e dello Iade 24LT. Zagni da trekking giornalieri, adesso vediamo pregi di fette all'interno della recensione completa. Iniziamo subito con lo schienale, uno schienale a rete, quindi che ci tiene lo zaino staccato dalla schiena e che grazie al sistema VaporSpan ci consente di avere una trasferabilità, devo dire, nella media. Niente di eccezionale, ma neanche nulla di catastrofico, quindi l'abbiamo apprezzata. L'aspetto che però più si apprezza di questi schienali di Gregory, come su tanti altri modelli, è la libertà di movimenti che lascia, perché è uno schienale che avvolge molto bene, che non ci costringe mai nei movimenti. Devo dire che tra tutti gli zaini è quello probabilmente più ergonomico, è quello che veramente nei movimenti non ci costringe. Ed è sempre un'ottima cosa, perché veramente, soprattutto magari quando dobbiamo andare ad esempio ad alzare le braccia, o comunque a fare determinati movimenti, ecco che lui veramente ci lascia molta libertà di movimento. Passando poi alla fascia lombare, questa è imbottita, molto confortevole, molto comoda. Come traspirabilità siamo più o meno allo stesso livello dello schienale e ricordiamo poi le due comode tasche abbastanza grandi, devo dire, ci sta un classico telefono, sia sul lato destro ma anche su quello sinistro. La fascia lombare poi si chiude con la classica cinghia per andare appunto a stringere e settarlo, diciamo, sulle nostre dimensioni. Ricordiamo poi che con questa fascia lombare possiamo portare all'incirca 10 kg, non andrei oltre, sia perché le dimensioni dello zaino banalmente non permettono di portare attrezzatura estremamente pesante, ma anche appunto per una questione di scarico del peso. Comunque, ripeto, con 10 kg va più che bene. Infine, per quanto riguarda gli spallacci, abbiamo degli spallacci di una sezione abbastanza classica, non sono né troppo piccoli né troppo larghi, con un materiale in eva molto traspirante, uno spallaccio abbastanza classico, con la possibilità di chiudere la chiusura pettorale per scaricare un po' di peso, dove è presente anche il classico fischietto. Passando poi alla sezione laterale dello zaino, questa è speculare, quindi se sul lato destro che sul lato sinistro troviamo le stesse caratteristiche. Devo dire che il sistema è molto classico, abbiamo classiche appunto tasche a rete in cui inserire la borraccia. Borracce, devo dire, ce ne stanno anche di quelle grandi, quindi sono veramente molto comode. E poi, sempre caratteristica degli zaini di Gregory, negli ultimi anni, è quella di avere il laccetto per andare a comprimere lo zaino che non va a sovrapporsi appunto con la borraccia, quindi ci permette effettivamente di andare a comprimere lo zaino senza che la borraccia sia di intralcio. Venendo alla parte posteriore vera e propria, qua ci sono le grosse differenze tra il modello da uomo e il modello da donna. O meglio, tra i modelli da 28 litri e i modelli da 24 litri. Parlando di questo modello da 28 litri da uomo, nella parte posteriore non troviamo nulla, nel senso che è abbastanza liscio e diciamo che ci sarebbe stata bene magari una piccola tasca rete dove poter riporre qualche oggettino, ma purtroppo non c'è. Sulla parte laterale abbiamo una tasca chiusa da zip, abbastanza alta, dove possiamo andare ad inserire un libro, una cartina, comunque qualche oggetto alto, ma abbastanza sottile. E poi nella parte superiore abbiamo la possibilità di aprire lo zaino con il classico cappuccio, dove abbiamo tasca esterna bella grossa dove c'è anche il rain cover e poi la chiusura è fatta con un semplice cordino da andare a chiudere, da andare a tirare per chiuderlo. Diciamo che da questo punto di vista lo zaino da 28 litri è molto classico, con una struttura davvero molto semplice, con cappuccio e via dicendo, e ha anche la possibilità naturalmente di poter portare nella parte esterna i bastoncini. Passando alla versione da 24 litri, nel mio caso chiaramente da donna, troviamo invece un sistema diverso e soprattutto per quanto riguarda l'accesso al vano principale dello zaino. Ma andando con ordine troviamo innanzitutto una tasca con la zip centrale che appunto si apre e ci permette anche qui di andare a inserire oggetti non particolarmente voluminosi, una cartina, un libro, un pacco di fazzoletti, non andrei appunto su oggetti molto voluminosi. Salendo abbiamo poi un'altra taschina in cui invece ci stanno oggetti più diciamo piccoli, quelli che vogliamo avere a portata di mano, mazzo di chiavi, volendo telefono, ancora fazzoletti, insomma oggetti che vogliamo avere più a portata di mano. E infine abbiamo un'altra zip, la più grande, che è quella che invece ci permette di accedere al vano principale appunto dello zaino. e come dicevamo appunto questa è la più grande differenza tra il modello da uomo e quello da donna. Infine per quanto riguarda il comparto acqua, è presente il rain cover di entrambi gli zaini, abbiamo la possibilità di portare nella parte esterna come dicevamo due borracce anche molto grandi e all'interno ci sta benissimo una sacca idrica con la possibilità di far uscire la prunga sulla parte anteriore. Parlando di materiali, lui è composto da un poliestere 400D in tutta la parte superiore, la parte inferiore invece è il nylon 420D, di cui questi materiali per più del 40% sono anche riciclati. C'è da dire che è un materiale sicuramente molto duraturo, un 400D come denario è veramente alto, quindi uno zaino che durerà sicuramente nel tempo e poi non lo pesantisce particolarmente perché comunque parliamo di 1,1 kg nel modello da 28 litri e di 1 kg nel modello da 24 litri. Ricordiamo inoltre la presenza di un leggero trattamento DVR. Dunque, arrivando alle conclusioni, iniziamo dal prezzo perché questi due zaini vengono venduti l'uno sui 130€, prezzo abbastanza nella media come tanti altri brand dello stesso segmento, quindi il prezzo è normale. Noi ve li consigliamo? Direi di sì. Sì, perché ci siamo trovati bene. Uno zaino abbastanza classico, leggero, dagli ottimi materiali, con anche una parte riciclata che non è mai una cattiva cosa, quindi in generale ci siamo trovati bene. E detto ciao ragazzi, una speranza sia stato esaurito e esattivo anche per questa recensione, ringraziamo quella guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!